è possibile fare esperienza del paradiso in terra già in questa vita è l'argomento di questa puntata beatrice educa dante a non rimanere in continuazione a guardarla negli occhi perché è un rapporto vero spalanca qualcosa di più grande un'amicizia un amore autentici aprono agli altri non rinchiudono dante si trova lì davanti a beatrice che sta guardando il cielo e dante come per osmosi inizia a guardare anche lui verso l'alto perché l'uomo cresce e si inalza per imitazione l'uomo impara e cresce guardando qualcuno che è più avanti di lui nel cammino della vita si impara proprio per osmosi e dante inizia a guardare verso l'alto e poi porta di nuovo gli occhi verso beatrice e qui fa una esperienza che è unica dante non trova le parole per raccontare questa esperienza e deve creare dei termini nuovi degli apax che poi non compariranno più all'interno della sua opera dante fa una esperienza che è particolare consiste nel non percepire più la corporeità è come se dante non sentisse più il peso della materia del corpo del limite del dolore e del peccato trasumanar significar per verba non si poria però l'esempio basti a cui esperienza grazia serva non si potrebbe dice dante raccontare attraverso le parole l'esperienza che io ho fatto di andare oltre la condizione umana perciò basti l'esempio che io ora addurrò per raccontare per documentare quello che io ho percepito dante si avvale di un lessico nuovo mai utilizzato prima e ora si avvale della explanatio per argomenta exemplorum che è tipica della mistica l'esempio che aduce prelevato dal tredicesimo libro delle metamorfosi in cui si racconta del pescatore della veozia di nome glauco ovidio racconta di questo personaggio che sentitosi stanco e avendo visto dei pesciolini che si nutrivano di erbe marine e che avevano poi reacquistato vitalità decise anche lui di nutrirsi di quell'erba e glauco si trasformò in una divinità marina dante ci vuole dire ci vuole raccontare che lui ha avuto la percezione della eternità dentro di sé ha avuto la percezione di qualcosa divino di soprannaturale dentro la propria persona nel suo aspetto cioè nel guardare beatrice tal dentro mi fei qualsi fei glauco nel gustar dell'erba che il fei consorto in mar degli altri dei nel guardare lei beatrice feci l'esperienza che fece glauco quando si nutri dell'erba che fece sì che glauco diventasse una divinità marina quel nel suo aspetto ricorda molto da vicino il racconto che lucrezio fa di figenia nel dererum natura dove scrive aspetto suo nel guardarla il linguaggio qui è tutto denso pregnante e ha tantissimi termini che sono attinti dalla lingua latina il linguaggio è nobilitato ed è elevato dante sta facendo l'esperienza del paradiso in terra e santa caterina da genova autrice del trattato sul purgatorio che è un'opera mistica sull'aldilà racconta che la condizione che noi sperimentiamo sulla terra già anticipa la condizione dell'anima dopo la morte quindi noi in terra già possiamo sperimentare l'inferno il purgatorio o il paradiso ma qui nel canto primo le sorprese non sono finite la luce è intensa come in nessun'altra occasione e la musica è più suave di tutte quelle che il poeta abbia mai sentito in terra e dante prova così a raccontarlo parvermi tanto all'or del cielo acceso della fiamma del sol che pioggia o fiume lago non fece alcun tanto disteso vidi in pratica una luce così intensa e così distesa che io non ho mai potuto vedere in terra una fiume un lago così disteso come quello provocato dalla pioggia o dai fiumi la novità del suono e il grande lume di loro cagione mi accesero un disio mai non sentito dico tanto acume dante prova un desiderio molto intenso vuole sapere come mai la luce sia così intensa e la musica sia così soave dante è preso dalla curiosità e beatrice riesce a intuire riesce a leggere nella profondità del cuore di dante e previene la domanda perché nel paradiso noi troviamo anime di santi che sono pieni di carità e che anticipano le domande e i dubbi che vedono nell'animo di dante proprio come vedremo anche nel paradiso nell'ultimo canto laddove si parla della madonna e si dice la tua benignità non pur soccorre a chi domanda ma molte fiate liberamente al dimandar precorre la benevolenza della madonna non risponde soltanto a chi chiede esplicitamente aiuto ma molte volte anticipa spontaneamente la nostra domanda perché la carità vede il bisogno e anticipa la domanda e la mendicanza e allora beatrice risponde a quel dubbio che dante non ha espresso tu non sei in terra siccome tu credi ma a folgore fuggendo il proprio sito non corse come tu che adesso riedi dante tu non sei più in terra ma stai correndo verso l'alto verso il cielo con una velocità superiore a quella con cui un fulmine scende in terra e dante viene così irretito preso da un dubbio ancora più grande se viene sciolto il primo dubbio ora viene ingabbiato in un dubbio più grande e dante qui utilizza un linguaggio che ci mostra la novità della lingua del paradiso un linguaggio estremamente sintetico e nuovo se io fui del primo dubbio disvestito per le sorrise parolette brevi dentro ad uno nuovo più fui inretito se io fui disvestito del primo dubbio cioè se fu tolto a dante il vestito del primo dubbio ecco dante fu però preso nella rete di un dubbio ancora più grande disvestito e irretito sono due metafore bellissime per documentare questa situazione nuova per le sorrise parolette brevi dante in pratica non ha più il primo dubbio per quelle parole che sono state pronunciate con il sorriso perché il paradiso è il regno del sorriso dei santi che è il sorriso di dio e queste parole sono parolette brevi cioè sono parole dette in estrema sintesi con carità con essenzialità questa è la nuova lingua del paradiso dante ha ora un nuovo dubbio come è possibile che lui stia salendo verso l'alto se ha ancora la sua corporeità ovvero come è possibile che lui stia sperimentando il paradiso se è ancora in vita beatrice risponderà a questa domanda ma lo vedremo nella prossima puntata un'altra domanda ma lo vedremo nella prossima puntata Grazie.